Siamo nel territorio del veronese, esattamente località Mambrotta, è una bellissima località vicinissima al cuore di Verona e per vivere questo territorio c'è qualcuno che ha avuto un'idea. Nasce come gastronomia, si chiama Corte Poli ed è il luogo che ormai dopo dieci anni è diventato un'istituzione per quanto riguarda tutti coloro che vogliono provare Cota, Andrea Albertini, titolare della struttura, seconda generazione. All'interno di Corte Poli si ritrova una struttura che richiama un po' quella di un resort, si può trovare sia ristorante, bed and breakfast, sporting, proprio quest'anno abbiamo aperto dei centri sportivi con campi da calcetto e un percorso foot golf, dopodiché proprio quest'anno abbiamo dato avvio ad una nuova attività che è quella della zona wellness, abbiamo ampliato tutto il complesso di stanze che sono attualmente diventate 9. La cucina è quella tradizionale veronese e l'antipasto più caratteristico visto che stiamo entrando anche nella zona sono le puntine verdi da asparago che è praticamente il germoglio che ha reso famosa Mambrotta proprio la località ecco, secondate poi dal risotto all'asparago bianco, le uova e asparagi poi si può gustare tutto l'anno il risotto all'amarone montevoronese, si può proporre la miglior carne al camino o oltre a questa sempre piatti della tradizione come la polentina con la pastissata di musso, la polentina col baccalà, degustazione di formaggi. vi consiglierei la nostra milefoglia ripiena con la crema mascarpone, le scaglie di cioccolato e gli amaretti che è un po' una rivisitazione della milefoglia tradizionale. 44.000 metri quadrati, sport, benessere, gusto, non manca proprio nulla quindi se ti chiedessi venite a Corte Poli perché tu mi risponderesti? 45.000 metri quadrati, possono trovare a pochi passi appunto dal centro di Verona un'oasi di pace, benessere e relax. Elisa, sommelier all'interno di Corte Poli, cosa state programmando per tutti coloro che vogliono vivere questa bellissima esperienza? Allora a breve sarà prossimo all'apertura qua di una cantina dove sarà possibile trovare tutti i vini a riposo e poter quindi degustare tutti i vini di nostra produzione. Qua infatti se si viene a mangiare si si può proporre il vino alla marone di nostra produzione o anche il vino Valpolicella o dei passiti che produciamo qua in una casa agricola nelle colline di Marcellise, qua a pochi passi da noi. Qual è il vino che suggeriamo a tutti coloro che vogliono vivere Corte Poli? Un Valpolicella che poi può essere un classico o un superiore in base alla preferenza. Ovviamente sempre con la Griff e il brand di? Corte Poli. Iniziamo. Ioomo. Dove ogni a due dispeco portano? Non vede.